E' la finale delle prime volte, la prima per l'Olympus Roma, la prima fra due squadre e due allenatori che un titolo non l'hanno mai vinto. La prima finale scudetto per Daniele D'Orto da allenatore, la prima volta senza giocatori che hanno vinto l'Europeo d'Amversa, la prima senza una squadra che abbia vinto la regular season. Signore e signori, amici di futsal, amici di Sky Sport, buonasera da Matteo Santi e Daniele Mennini. Si attende solo il fischio di Colombin che arriva in questo momento, si gioca, è cominciata la finale scudetto 2023, la Fendi a gestire il primo possesso, con Dalcin subito dentro. Suola il pallone, Marcelinho, splendida, la palla di ritorno per Dimas. Pallone dietro, Venanzio piazzato. Batte Sacon, pallone per Tres, che calcia! Dalcin sul punto di battuta, si allarga Fante Sele, Caponigro e porta! L'errore di Ducci, proprio Vincenzo Caponigro a sbloccare la sfida! La finale scudetto si stappa e 1-0 feldieboli. Venanzio in avanti, i calderolli con Dimas che va da Tres, poi Marcelinho la palla sbuccherà a Figna! Calcia alle stelle col destro. Ancora insiste sul lato di Marcelinho, Sacon, Rimorchio, la palla resta lì, Cutrupi! La presa dal CIN! Vavada centrale, taglia senza palla. Attenzione al pallone recuperato, Braga! Calcia fuori, clamorosa occasione. Lascia, in buca, Guillermo, Venanzio! Forte centrale, Guillermo, Ducci! Ancora Guillermo, calcio d'angolo. Prova a partire, perde palla, Baroni, gli dà un appoggio Guillermo, Baroni fino in fondo, Baroni! Calcia fuori! Sale lui, allora si mette 1-2-1 l'Olympus. Calderolli, grande, finta, lascia sul posto Sacon, poi Venanzio si gira, mette sul secondo palo, Guillermo! E ora sono tante, Matte. E Cutrupi passa, Cutrupi! Alto! Cutrupi, ancora Venanzio, poi Guillermo, Guillermo, Guillermo! Guillermo! Raddoppia la fel di Eboli! 1, 2, 3, 4 volte no! Alla quinta sì! 2-0! E qua non hanno neanche fatto in tempo a fargli farlo. Cetta arriva Selusio, Sacone in anticipo, la palla per Schinina, la prende Vavada, porta ancora vuota! Selusio! Il pallonetto! Selusio esplode il parasele! 3-0 della fel di Eboli! Colpo da knockout! E qui può andare giù l'Olympus, eh? Sacon, 6 minuti alla fine della partita. Sacon, calcia forte! 3-1 ha segnato l'Olympus Roma! Ancora Mateus Sacon nel suo momento d'ora della stagione! Super fase finale di campionato, di playoff! 3-1 segna Sacon! Sacon, velo, Dimas, dentro! Pallone preso da Dalcin! In angolo, 3 stintro! Da mezzo metro, Marcellino! Ha segnato l'Olympus Roma con Marcello Padilla! 3-2 a 3.40 dalla fine! Protestano per un fallo di mano in casa del Diaboli! Ma è tutto buono, è 3-2! Hanno giocato a questa molto meglio rispetto a quella di prima! Con il velo, con Dimas che è passato per la palla! Data in mezzo, si è alzata, vediamo se Marcellinio... Marcellinio in bagger! La parata di Dalcin, poi lontana Selusio! Poi l'azione era proseguita e la sirena suona adesso la fel di Eboli! Si prende il primo punto della serie Scudetto! Battendo 3-2 l'Olympus Roma, partita tiratissima fino alla fine, Daniele!